La Serie D è lì a portata di mano, basta non perdere terreno e giocare col coltello tra i denti, come su ogni partita, ne rimangono sei da disputare, fosse una finale. Combattere su ogni pallone, sudare la maglia e non lasciare nulla di intentato, feroci, sportivamente parlando. Il Gela adesso in vetta al girone A del campionato di eccellenza e per la prima volta da solo. Ha dovuto aspettare 24 giornate, ma alla fine il club biancazzurro è riuscito nel suo intento. Ha corso e tanto prima di raggiungere e superare le battistrada. Adesso sono loro che rincorrono e ci riferiamo a Dattilo Noir e San Cataldese. I punti di vantaggio sono tre, troppi, pochi. Nel calcio è inutile fare calcoli perché poi immediatamente smentiti dai fatti. L'importante è che si vinca il campionato anche con un solo punto di vantaggio rispetto a chi sta dietro. Ma, lo dicevamo all'inizio, non bisogna allentare la presa perché le inseguitrici non aspettano altro. Un passo falso e tutto è compromesso. I giocatori del Gela lo hanno capito. E la dimostrazione di forza avuta domenica scorsa in casa del Mazzara, battuto per 2-1, ne è la prova più emblematica. Perché vincere in casa di una squadra che ambisce i playoff non è roba di tutti i giorni. E la vittoria è stata ottenuta grazie ad una prestazione d'alto spessore. Sì, è vero, il portiere Pandolfo ha compiuto anche delle protezze, ma è altrettanto vero che i biancazzurri del tecnico Toto Bruculeri hanno avuto le loro occasioni per impinguare il risultato. Domenica prossima il calendario offre al Gela una partita facilissima sulla carta. Al Presti, infatti, sarà di scena la libertà sarà calmuto, fanalino di coda con soli 11 punti. Ma attenzione, non bisogna sottovalutare l'impegno. Perché, lo ripetiamo dall'inizio del campionato, ogni qualvolta si affronta il Gela è come se gli avversari giocassero la partita della vita. Ora, ancora di più, in merito al fatto che si gioca contro la capolista. Appuntamento a domenica alle 15. È la prima di sei finari che dovranno portare i biancazzurri in palcoscenici più consoni al blasone del team presieduto da Angelo Tuccio.